Vuoi verificare e aumentare i cavalli della tua moto? Vuoi conoscere la tua due ruote? Vuoi elaborarla e prepararla per strada o pista? Abbiamo il banco di prova DynoJet Centromoto Racing Team di Big Guy Paolo Un'officina all'avanguardia, magazzino ricambi, abbigliamento, vendita moto e scooter multimarche Siamo professionisti della moto dal 1970 Centromoto Racing Team di Big Guy Paolo In via De Gasperi a Sega di Gruaro CentromotoBigGuy.it